eccoci è passato un po più di un mese dal mio ultimo video vi voglio far vedere quello che il mio post operatorio dopo un mese mese cinque giorni ecco questa è la ferita quella che inoltre la ferita la zona trapiantata che è completamente guarita i capelli quelle trapiantati sono caduti tutti e sotto ci sono quelli nuovi con la fotocamera non si vede ma ci sono tipo dei piccoli come dei punti di spillo che stanno crescendo tutti i capelli nuovi sembra che stanno andando abbastanza bene la ferita è completamente guarita vedete non c'è più nulla la zona donatrice non si vede nulla di lato almeno dietro non so se si vede comunque faccio quello che possa si vede è tutto perfetto il mese ha passato benissimo le crosticine sono andate via dopo 12 giorni ho effettuato i lavaggi così come hanno detto le persone che mi stanno seguendo dell'equipe dottor balui non ho avuto alcun tipo di problema post operatorio soltanto un po di prurito quello si è ancora oggi però è normale che ci sia un po di prurito nella zona donatrice sono tornato al lavoro dopo 20 giorni ho fatto tutto quello che facevo prima dopo un mese cioè sono andato in palestra dopo un mese ho messo il casco della moto e tutto certo bisogna essere un po attenti perché comunque i capelli sono ancora molto piccoli e la zona la pelle delicata o si vede al tatto che è molto delicata però piano piano sta guarendo poi io personalmente ho acquistato la lozione lo spray e lo shampoo col marchio dottor balui perché mi hanno detto tutte con valido prodotto e l'ho preso e come integrazione ho soltanto comprato in farmacia bioscaline che mi hanno consigliato riassumere per sei mesi perdere un pochettino di forza in più ai bulbi perché comunque ci vuole sono sempre bulbi nuovi vedi per ora dice che il primo mese sono un pochettino dormienti un po crescono lentamente rispetto agli altri capelli però piano piano dovrebbero mettersi alla pari e crescere in modo omogeneo vi lascio ci ci sentiamo qualche mese diciamo intorno al secondo terzo mese e vi farò vedere i risultati comunque per quanto mi riguarda tutti coloro che vogliono fare il trapianto in turchia il trapianto con la tecnica FUE soltanto una cosa devono fare fallo e basta che comunque è una cosa molto bella per chi ci tiene per chi vuole comunque volete tornare con i capelli è l'unica cosa da fare lasciate stare tutte le varie terapie che consigliano finesterite bioscaline e quant'altro sono palliativi l'unico l'unico modo per avere i capelli è il trapianto quindi fatelo ciao a tutti alla prossima